ciao a tutti ragazzi bentornati churma il vostro capitano di fiducia e oggi vi proporrò un video molto speciale perché per chi non lo sapesse adoro la comicità italiana e infatti studio per fare l'attore comico detto questo oggi vi proporrò una recitazione comica con la quale vi farete tante risalte bando alle ciance e buona visione ciao raga sapete perché ho questa faccia perché è la giornata di gusto scherzi a parte vi proporremo delle noobs molto particolari iniziamo con la prima noobs allora ragazzi non mangiate i panini di claudio bagliani sono inventi una cacca rossa e poi c'è una noobs che dicono che è molto eccitante e poi c'è un'altra noobs che dicono che è sporca vabbè e mi adoro allora la prima è ragazzi i bambini non possono vedere queste cose avanti ma che fa ma scusa avanti ok come vuoi te allora queste sono le fette biscottate per una colazione più eccitante avanti continua e va bene il mattino ha l'oro in bocca ma ha l'ho capito sai che ridere poi da su ma che scherzo che cavolo sono questi sono sono cuor di mela cuor di mela che sono tipo pangoccioli a me non sembrano pangoccioli ci sono dei pezzi di mela no a volte mamma e papà sono tanti nostrani bene se qualcuno ha bisogno di me sarò sotto una doccia scherzi a parte le noobs sono finite qui ciao ragazzi ci vediamo e ricordate imbecille è chi l'imbecille fa spero che questa recitazione comica vi sia piaciuta io vi invito a lasciare un bel mi piace qua sotto iscrivervi al canale attivare la campanella delle notifiche di che cosa ne pensate nei commenti quindi in ultime parole viva la comicità italiana ora è per sempre alla grandissima